Ben ritrovati a voi tutti cari amici, bene, mattinata che sta terminando e quindi passiamo da breve al pomeriggio di questo martedì 19 maggio. Allora, un po' di servizi in casa, qui poi ho fatto anche, così, più o meno un'oretta di continuare la mia stagione a FIFA 2009, la PlayStation 2 portatile come allenatore. Il girone di andata, come dicevo ieri sera, è abbastanza complicato, però ora oggi proprio la squadra mi ha soddisfatto con ben cinque vittorie di fila. Certo, è ovvio che mantenere la stessa tenuta, che ne so, per dieci partite sarà un po' difficile, però staremo a vedere. Non ho visto la puntata di Rocco, comunque ho letto che è stato ufficializzato il match, che sarà un match normale, singolo, uno contro uno, tra Edge, Randy Orton, a Backlash, a metà giugno, a Paperview, che credo dovrebbe tenersi sempre almeno al Performance Center. ed inoltre c'è stato, mi pare, nella puntata, il ritorno di Kevin Owens, che ha fatto il suo talk show, il Kevin Owens Show, ritorno anche da Apollo Crews, e proprio i due, Apollo Crews e Kevin Owens, hanno fatto un match di coppia due contro due, che poi hanno vinto. Poi, se non mi sbaglio, dei risultati che ho letto, Mandy Rose e Alexa Bliss hanno vinto per squalifica la loro difesa titolata contro le iconiche, quindi chissà, magari, che sicuramente la rivalità tra queste due squadre continuerà, magari ci potrebbe essere una chiusura del cerchio, diciamo, proprio a Backlash, lo staremo a vedere, e poi mi pare, se non mi sbaglio, che Drew McIntyre ha battuto King Corbin nel match di chiusura della puntata. Quindi, questo è il nostro secondo e ultimo video, come di consueto, di oggi. Come vedete, sto alternando una diretta su Facebook, che è un video che posto su YouTube, cioè, video postati al giorno su YouTube, ne sono due, comunque. Per il resto, al momento, sempre nuvoloso, un po' qui a Trani, mi raccomando, se volete farvi due risate, andate per recuperare il cabaret deluxe di oggi, dalla prima mattinata di oggi, verso le sette questa mattina, che ho realizzato. domani, molto probabilmente, o via registrazione, oppure direttamente via Facebook. Penso di fare la nuova puntata del Deluxe Show, ricordo ovviamente a cura del sottoscritto, Nicola De Lucia, del mio caro amico Nicola Zecchillo. Il mio canale, ovviamente, Elisabete, questo, YouTube, Facebook, il mio profilo, la mia paginetta, Twitter e Instagram. Io vi ringrazio tutti, coloro che mi seguono costantemente, a chi magari, tra, come si dice, tra un impegno e l'altro, quando desidera, si guarda un mio video. Grazie a tutti. Voi, insomma, siete ovviamente un motivo di incoraggiamento per me, di sprono. Ci vediamo domani. Oggi, diciamo, vado un po' sul diverso, non faccio la recensione, dirò, cambia un po'. A me mi piace un po', come si dice, fare quello di cui io desiderio, che poi è importante anche che sia così. Tanto mi gusterò, ho recuperato la puntata di Rodi venerdì scorso in italiano e mi gusterò quello. Di nuovo, grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Nicola, che dici? Ciao a tutti!